Benvenuti all'apertura della settima edizione del Salone del Risparmio e benvenuti anche in questa nuova sede, la casa del salone più ampia e accogliente per un salone che cresce come cresce il risparmio gestito nel nostro paese. Lo sapete sono stati due anni consecutivi di raccolta record e nonostante la volatilità sui mercati anche da inizio anno i flussi restano positivi a indicare che finalmente nei fatti il comportamento finanziario delle famiglie e degli italiani sta davvero iniziando a cambiare. In maniera strutturale alcuni la considerano irreversibile, sicuramente non è ancora abbastanza e una crescita che assume e attribuisce maggiore responsabilità e centralità alla vostra industria, all'industria del risparmio che ormai gestisce una quantità di ricchezza degli italiani che è superiore al prodotto interno lordo. Di fronte però ci sono delle sfide, dicevamo, ancora più complicate e difficili e sono le tre sfide attorno a cui gireranno questi tre giorni di incontri, di lavori, di workshop qui del Salone. La prima è quella della demografia a partire dal trasferimento della ricchezza tra le generazioni, la crisi l'ha polarizzata ulteriormente fino al far fronte alle esigenze di lungo periodo del risparmio degli italiani e la previdenza, fatti salvo gli 80 euro di cui si parla sui giornali questa mattina per le pensioni minime naturalmente. Ma poi c'è la sfida della liquidità, cioè come adeguare i portafogli al contesto dei tassi zero, dei tassi negativi che riguardano ormai quasi due terzi dei titoli governativi in giro per l'Europa. Infine lo sviluppo, la crescita, come saldare il patrimonio, il grande patrimonio del risparmio degli italiani con la partita della ripresa, con l'economia reale. Sono i tre temi al centro del Salone, un Salone che potrete visitare attraverso sette percorsi. Nel video avete visto l'introduzione a uno di questi sette percorsi che riguarda la scelta delle famiglie italiane, gli altri invece riguardano il risparmio di lungo periodo, il rapporto con l'economia reale, poi ancora l'educazione finanziaria, il social impact, la finanza sostenibile, quello che sono i portafogli modello, quindi le scelte di investimento e l'asset management, il fintech e la finanza sostenibile. Questi sono i sette percorsi divisi per colore che vi aiuteranno a trarre il meglio, quello che vi sarà più utile nel corso di questo Salone. Questa mattina in apertura partiremo da una fotografia del risparmio gestito nel nostro Paese, delle strategie di asso gestioni con il Presidente Tommaso Corcos, e poi avremo anche l'agenda per il risparmio del governo, ci ha appena raggiunto il Ministro dell'Economia Pier Carlo Paduan, che ringraziamo. E poi un punto di vista invece internazionale sulle sfide che anche quest'anno, che è un anno dall'agenda internazionale estremamente ricca e anche complicata, in parte rischiosa, lo faremo con Joska Fischer, Joska Fischer è stato Ministro degli Esteri nel governo rosso-verde di Greer Schroeder in Germania fino al 2005, dal 1998 è stato anche Vice Cancelliere tedesco. Ma iniziamo subito, entriamo nel vivo di questa nostra apertura, invito sul palco il neopresidente di asso gestioni, Tommaso Corcos. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Andrea. E' uno sguardo particolarmente bello, immenso, ed è per me un grandissimo piacere, un grandissimo onore aprire il Salone del Risparmio in qualità di Presidente di Asso gestioni. Oggi in questa sala sono seduti i più grandi protagonisti dell'industria del risparmio giustito. Ci sono banche, reti distributive, società di asset management, una sala ricca di professionalità, ma anche carica di aspettative. Siete veramente tantissimi. Fatemi partire con un saluto di ringraziamento nei confronti del Presidente uscente Giordano Lambardo e anche un ringraziamento al lavoro straordinario che sta facendo Asso gestioni. E' un'industria la nostra che è ripartita, è partita molto forte, è sana, è forte, è robusta. E negli ultimi anni, a partire dalla seconda metà del 2012, la raccolta ha iniziato a crescere in maniera importante. La raccolta, dicevo, a partire dalla seconda metà del 2012 è iniziata a salire e a dare un trend di incremento piuttosto significativo, fino a raggiungere nel 2015 una cifra particolarmente importante di 142 miliardi. Queste cifre hanno portato le masse che noi gestiamo a dei livelli incredibili, perché parliamo di ammontari di 1835 miliardi. Per dare una dimensione di questi numeri basta rapportarli al PIL. Stiamo parlando di cifre che rapportate al PIL sono il 118% del prodotto interno lordo, che sono il 45% del risparmio delle attività finanziarie degli italiani. E questi numeri sono ancora più impressionanti se pensiamo che il prodotto interno lordo è ancora lontano dal picco raggiunto del 2008, di circa 9 punti percentuali. Ovviamente una parte di questa grande forza che ha avuto l'industria del risparmio gestito italiana è dovuta a un effetto di ribilanciamento, di ricomposizione del portafoglio delle famiglie, che li ha portati a spostarsi dal risparmio amministrato al risparmio gestito. Però è anche figlia di un trend di crescita internazionale, che noi ci immaginiamo possa recuperare un tasso di crescita tipico di industrie sane, ma anche di industrie mature, e che ci prefiguriamo pertanto nei prossimi anni di vedere attorno al 2%. Quindi una riduzione rispetto agli anni d'oro del 2005-2007, ma un recupero e un assestamento su un settiero di crescita più sostenibile. Per quanto riguarda invece le caratteristiche della nostra raccolta, ci sono due elementi che vorrei mettere in evidenza e sottolineare. Il primo, il fatto è che parliamo di un'industria italiana fortemente competitiva, perché se andiamo a guardare il livello di apertura della nostra rete distributiva, delle nostre rete distributive, il mondo del retail è aperto per il 42%, e il mondo del private, questo livello di apertura, giunge picchi del 60%. Quindi un'azienda è un sistema industriale fortemente competitivo. Il secondo elemento importante, che vedremo poi avrà delle incidenze anche su come l'industria si relaziona rispetto a queste dinamiche, è una forte componente retail. Cioè la raccolta che non soltanto a livello italiano, ma anche a livello europeo, è stata determinata e influenzata dall'andamento del mercato retail. Fatemi dire che siamo veramente orgogliosi dei risultati della nostra industria. Però vogliamo utilizzare questi risultati anche come trampolino di lancio per le sfide che ci attendono. E quindi con questa proiezione verso il futuro, saluto le autorità, il Ministro Padoan, i tanti prestigiosi ospiti che nel giro dei prossimi tre giorni si alterreranno su questo palco, per un salone di risparmio che sta diventando di anno in anno sempre più importante, è sempre più bello, è sempre più piacevole parteciparvi. E quindi vorrei condividere con voi alcuni punti di un piano programmatico che sono i punti sui quali ci dobbiamo concentrare per pensare a una crescita della nostra industria. E i punti di cui vi vorrei parlare oggi sono questi cinque. Consolidamento del modello di servizio, la stewardship, il ruolo nell'economia reale, la previdenza complementare, l'educazione finanziaria e il capitale, e il capitale umano. La compressione dei rendimenti sul mondo obbligazionario governativo ha spinto molte famiglie e molti investitori retail ad abbandonare il porto del rendimento sicuro offerto dal mondo governativo e iniziare a investire in asset class con le quali hanno una minore dimestichezza. Per orientarsi nella nuova geografia degli investimenti, il risparmiatore ha bisogno di una guida, di una consulenza che li traguardi verso gli obiettivi di risparmio. Quindi la consulenza evoluta è la frontiera sensibile sulla quale noi appoggiamo la sostenibilità della nostra crescita nel prossimo futuro. E attorno alla consulenza evoluta si appoggiano anche non soltanto l'evoluzione tecnologica, il mondo della roba advisory, ma anche tutta la normativa, tutta la normativa che c'è stata e tutta la normativa che verrà. Ma alla fine tutto questo si traduce in uno slogan tanto antico quanto potente di rimettere al centro il cliente. Questo è un principio guida che ispira molte società che vedo qui presenti in sala, reti distributive, società di asset management, ma credo che bisogna fare e dare un ulteriore stimolo, un'ulteriore spinta a questo modello di servizio. Spostarsi dal prodotto al cliente, dalla comunicazione del rischio legale alla condivisione dello stesso e con il cliente, da un investimento a breve termine a una pianificazione di medio termine in cui l'orizzonte temporale e il tempo scandiscono gli obiettivi del risparmio e la combinazione rischio rendimento. Recuperare profondità temporale e quindi rimettere il tempo al centro del nostro modello ci dà la possibilità anche di recuperare un gap che si è aperto in maniera significativa per quanto riguarda il risparmio a lungo termine fatto dagli italiani rispetto al risparmio a lungo termine fatti in altri paesi. E come vedete ci sono dei paesi che stanno lontano in termini sia percentuali in termini anche assoluti rispetto a quello che gli italiani risparmiano a lungo termine. Abbiamo soltanto il 21% delle attività finanziarie investite dagli italiani nel lungo termine e la cifra sono 12.000 euro. Abbiamo quindi l'obbligo e dobbiamo coltivare la fiducia dei nostri clienti storici e dei clienti nuovi e soprattutto ricordare a noi stessi che questa è un'industria che non ha mai stata attraversata da situazioni di risparmio tradito che tanto abbiamo letto nei giornali in questi ultimi tempi. Dicevo della clientela retail e dobbiamo pensare che c'è un'importanza prospettica di come questa domanda retail influenzerà anche l'assetto dell'industria e in particolare ci sono alcune cose sulle quali vorrei soffermare la vostra attenzione. Il primo è il fatto dei prodotti e dei servizi di cui un po' abbiamo già raccontato l'importanza ha fatto il desiderio da parte dei clienti di avere consulenza per avere tutta una serie di soluzioni finalizzate. Ma ci sono anche altri elementi importanti. Il primo è il fatto che ci troveremo davanti una numerosità di clienti significativa che è tipica caratteristica della clientela retail e sappiamo benissimo che la nostra industria ha fatto dell'efficienza produttiva una delle chiavi di volta una dei pilastri del servizio e quindi chiaramente dobbiamo mantenere un'efficienza operativa anche in un momento in cui dobbiamo servire una moltitudine di clienti. Qui ovviamente le piattaforme tecnologiche sono dei straordinari facilitatori del mantenimento di questa efficienza operativa. C'è un altro elemento particolarmente importante è che l'investitore retail è meno consapevole e quindi l'investitore retail che è meno consapevole vedrà una regolamentazione sempre più incisiva sempre più intrusiva a difesa e a tutela di un risparmiatore meno consapevole. E qui abbiamo una doppia evoluzione abbiamo il tema di un rapporto più stretto tra produttore e distributore che è un punto importante della product governance perché uno degli elementi che si porta dietro la product governance quando parliamo di MIFID 2 e ci domandiamo che cos'è la product governance dobbiamo soltanto ricordarci che la product governance porterà a un maggior dialogo tra distributore e produttore e a una maggiore responsabilità dell'SGR perché è compito dell'SGR definire il target di mercato per un determinato prodotto e assicurare che ci sia sempre una coerenza tra il prodotto e il mercato di riferimento che l'SGR ha individuato. L'altro elemento importante è quella dell'ammissibilità della retrocessione e l'ammissibilità della retrocessione sarà ovviamente legata all'innalzamento della qualità del servizio. C'è un altro punto che riguarda il consolidamento del modello di servizio ed è sicuramente la stewardship. Oggi la stewardship è un impegno per gli asset manager internazionali e è un importante impegno per tutta l'associazione. però noi di ASSO gestioni partiamo da un principio fondamentale che una stewardship che è la migliore stewardship dà la possibilità a tutta una serie di operatori di beneficiare dell'esistenza di regole di corporate governance che sono best practice perché le società emittenti hanno il vantaggio di avere un maggior e un migliore accesso al mercato dei capitali. i paesi che hanno una corporate governance buona hanno la possibilità di attrarre flussi di investimento internazionali e quindi riescono a migliorare il tasso di crescita economica del paese e infine anche noi rassicuriamo, aumentiamo la fiducia degli investitori e vediamo anche una performance migliore delle società che hanno una corporate governance elevata. Come sapete a suggestioni nel corso del 2013 ha adottato i principi di stewardship e nel 2015 ha fatto sue una serie di raccomandazioni di secondo livello per tutti i principi della stewardship. Ma in che cosa si traduce questa stewardship? Che cos'è? Di fatto è un dialogo un'interazione continuativa tra le società emittenti e l'SGR e gli investitori istituzionali. Per gli stessi principi di stewardship di fatto l'elezione con il voto di lista costituisce già un principio di ingaggio perché uno dei tre pilastri sui quali si appoggiano questi principi di stewardship sono il monitoraggio degli emittenti l'esercizio del diritto di voto e l'ingaggio. L'ingaggio già viene fatto con la presentazione della lista di minoranza che presentiamo come Asso gestioni perché i consiglieri indipendenti con il loro ruolo senza alcun vincolo di mandato e senza che ci sia un rapporto ovviamente con gli investitori che l'hanno eletti esercitano in maniera efficace e continuatina un ruolo di ingaggio con gli organi sociali delle società emittenti dove Asso gestioni ha contribuito ad insediarli. Fatemi dire oggi che si sta per chiudere una ricca stagione assembleare del 2016 che le procedure che regolano il funzionamento del comitato dei gestori che come sapete è un organo estraneo all'associazione e al quale possono partecipare anche investitori istituzionali che non sono non fanno parte di Asso gestioni ha dato una grandissima prova di funzionamento. Il comitato dei gestori fatto da portfolio manager che conoscono le singole società nelle quali investono i settori nei quali operano e lo stesso presidente non fanno parte di organi societari di Asso gestioni e insieme nel comitato dei gestori partecipa anche un cacciatore di teste di fama internazionale che viene rinnovato ogni tre anni su un mandato su base competitiva. Se oggi l'Italia è un paese all'avanguardia da un punto di vista della corporate governance credo che uno dei fattori di successo sia legata allo straordinario impegno che Asso gestioni ha messo e ha contribuito insieme alle società emittenti a innalzare il livello della corporate governance in Italia. La nostra missione però e questo è un altro punto importante non finisce soltanto con la stewardship ma si deve estendere anche verso il mondo delle piccole e medie imprese e qui è importante il ruolo che l'industria può svolgere nell'economia reale. Se noi pensiamo oggi che in Europa il 70-80% del canale di finanziamento alle imprese avviene attraverso il sistema bancario e se pensiamo invece che negli Stati Uniti è esattamente l'opposto dove il 70-80% del finanziamento alle imprese viene erogato da investitori istituzionali che ovviamente hanno un orizzonte temporale più coerente con i piani di investimento delle industrie e in Italia la situazione è ancora più complicata dal fatto che è un tessuto industriale fatto da piccole e medie imprese che hanno sofferto sicuramente della difficoltà di ottenere finanziamento soprattutto in anni come questi che sono stati anni di crisi e pertanto è importante il nostro ruolo su un modello di finanziamento verso l'economia reale ma se vogliamo che questo accada è necessario è fondamentale che il risparmio a lungo termine diventi un obiettivo di policy grazie anche a tutta una serie di incentivazioni fiscali l'associazione da tempo parla di PIR e sono curioso di sentire anche l'intervento del Ministro Paduan perché da giorni che leggiamo sul giornale che c'è un progetto di finanza per la crescita che sembra andare nella direzione che noi auspichiamo e non sarebbe un esempio nuovo perché in Francia in Inghilterra abbiamo già dei meccanismi di incentivazione fiscale e di questo tipo e se pensiamo anche a quello che sta succedendo in Europa e quello che sta promuovendo la Commissione Europea con la Capital Market Union pensiamo che stiamo andando tutti nella stessa direzione perché uno degli obiettivi che la Capital Market Union ha è quella di creare un mercato di finanziamento parallelo al sistema bancario al tessuto industriale delle piccole e medie imprese e anche penso che i fondi pensione potrebbero essere e potrebbero rivestire un ruolo importante in questa funzione e però anche qui se andiamo un attimo e ritorniamo al paragone internazionale pensiamo che in America il 25% degli asset istituzionali sono detenuti dai fondi pensioni e il 90% di questi asset vengono poi gestiti da società di asset management in Italia il 2% dei fondi pensioni rappresenta il mondo degli investitori istituzionali quindi ovviamente accanto a un mercato degli istituzionali che è sicuramente marginale corrisponde una previdenza complementare che è sicuramente gracile se pensiamo infatti anche a quanto sono le percentuali che gli italiani investono attraverso fondi pensioni e assicurazione vediamo che anche qui la percentuale è piuttosto contenuta perché parliamo di percentuali del 20% rispetto invece ad altri paesi che si muovono tra una percentuale che va dal 30 al 60% ovviamente se avessimo dei fondi pensioni sviluppati avremmo un investitore che si muova con delle logiche temporali diverse che potrebbe allocare in maniera più efficiente le risorse che ha ottenuto e quindi raggiungere quel duplice scopo da un lato di erogare delle pensioni più robuste ai futuri lavoratori e dall'altra quella di sostenere l'economia reale devo dire che qui qualcosa si sta muovendo perché in Europa anche qui c'è un dibattito sullo sviluppo di prodotti pensionistici individuali i cosiddetti PEP i Pan European Pension Product e qui il ruolo dell'SGR potrebbe essere particolarmente importante perché ci potremmo trovare da un lato a essere promotori di una serie di prodotti che ricalcano un po' la storia di successo dei fondi comuni di investimento quindi dei prodotti armonizzati senza barriere che possono essere vendute in tutta l'Europa e dall'altro lato l'SGR potrebbe essere la società che gestisce questi prodotti pensionistici mettendo a sua disposizione le risorse professionali che caratterizzano il nostro mondo però anche qui per il successo della previdenza individuali servono senza dubbio degli incentivi di natura fiscale e se pensiamo che anche al monito che di recente ha sollevato l'autorità europea per le pensioni e per le assicurazioni ha spiccato un ripensamento del regime fiscale che oggi coinvolge la previdenza se pensiamo all'eseguità dell'ammontare deducibile è che circa 5.000 euro un poco più di 5.000 euro e se pensiamo anche al livello di tassazione è che grava sull'accumulo delle risorse destinate alla previdenza complementare sicuramente questa non è la strada per andare verso un miglioramento della previdenza complementare lo sviluppo del mercato europeo della previdenza richiede una revisione del nostro modello di tassazione lungo la strada che la stessa commissione europea ha auspicato educazione finanziaria e capitale umano sono un'altra parte del nodo della previdenza e qua purtroppo le forti carenze delle famiglie italiane da un punto di vista dell'adeguatezza della conoscenza finanziaria limitano la capacità di prendere decisioni sulle gestioni dei risparmi la cultura finanziaria italiana è inferiore rispetto a quella di altri paesi e qua c'è una slide piuttosto significativa perché se vediamo l'Italia ha una percentuale di risparmatori con adeguata cultura finanziaria del 37% ben distante da altri paesi e soprattutto la cosa che colpisce è che questo gap con le nuove generazioni non si sta chiudendo sta addirittura aumentando siamo indietro rispetto a paesi emergenti come la Cina e la Russia e questo numero non deve essere per forza una legge scritta sulla pietra la possiamo cambiare ma prima di vedere che cosa si può fare per cambiarla vediamo anche quali sono le conseguenze di una modesta cultura finanziaria perché se vedete sulla parte destra della slide il primo effetto è che comunque l'investimento viene tendenzialmente parcheggiato su problematiche legate alla liquidità e alla sicurezza e in un mondo come quello che conosciamo oggi i rendimenti che si ottengono da questa allocazione sono assolutamente miserabili e soprattutto ci sono altre due caratteristiche che colpiscono su una bassa cultura il primo è che il cliente ha delle attese irrealistiche su quelli che sono i rendimenti delle asset class il secondo punto è che il cliente non capisce le caratteristiche del prodotto e quindi non è in grado di comprendere i rischi associati a questo prodotto ci sono degli esempi di questi paesi che stanno in top della lista come il Canada o anche l'Inghilterra e gli Stati Uniti che hanno attivato tutta una serie di leve dalla scuola a materiale informativo a disposizione su web a tutta una serie di incontri fatti ad hoc con investitori di un certo tipo ci sono delle leve che si possono cambiare per risalire la classifica e devo dire noi come assogessioni ci teniamo a questa educazione finanziaria la prova ne è questo salone del risparmio la prova ne è il fatto che venerdì abbiamo una serie di incontri con migliaia di studenti da tutte le scuole provenienti da tutta l'Italia e soprattutto ho voluto dare anche un minimo di contributo perché le slide che avete visto che accompagnano la mia presentazione sono state saccheggiate dal concorso scatta il risparmio che gli studenti fanno per rappresentare come loro vedono e interpretano il risparmio credo che possiamo fare di più da questo punto di vista c'è un altro elemento particolarmente importante che mi sta a cuore che è il tema del capitale umano questo è un tema che è un po' più sottotraccia rispetto al tema dell'educazione finanziaria del quale si parla da tanto tempo è un dibattito assente dai media ma che è altrettanto importante perché noi sappiamo che la nostra industria è fatta da capitale umano e questo capitale umano ha gambe si muove per cui dobbiamo fare in modo che certe regolamentazioni in particolare anche quella sulla remunerazione non porti il nostro bipede a frequentare altri paesi che sono più avvantaggiati rispetto al nostro sul tema delle remunerazioni e c'è anche un altro tema importante il fatto che il capitale umano ha bisogno di una formazione continua ha bisogno di continui approfondimenti e devo dire una delle iniziative che mi fa piacere citare ma sono sicuro che ce ne saranno delle altre è un'iniziativa avviata dalla SDA Bocconi con il professor Beltratti per lanciare un master in executive finance in executive master executive sul risparmio gestito e su wealth management che presenteremo qui venerdì questo è importante perché noi dell'SGR abbiamo sempre una percezione e una preoccupazione su un'industria che si sta sempre più assottigliando però il mondo del capitale umano non riguarda soltanto la formazione ma riguarda veramente un investimento a tutto tondo sui nostri collaboratori e qui cito una survey fatta da McKinsey che ha intervistato l'anno scorso tutta una serie di operatori che lavoravano nelle nostre che lavorano nella nostra industria sia in Europa sia in Italia che hanno dato un quadro un pochino preoccupante il fatto è che molti intervistati una percentuale alta mostra insoddisfazione su quello che è il livello dell'industria e in particolare lamentano un po' la scarsa valorizzazione e lamentano un po' anche il senso di appartenenza all'industria e soprattutto questa percentuale cresce in maniera significativa e con intervistando intervistando i giovani credo che questa è una qualcosa sulla quale noi possiamo lavorare e credo che qui a suggestione potrebbe dare una grandissima mano credo che siamo diventati un'azienda e un settore che è diventato un po' troppo di nicchia e che invece deve rialzare lo sguardo rialzare la profondità della propria visione dobbiamo ripresentarci alle università per risollevare e riraccontare il valore importante che noi come assoggessioni abbiamo e come associate abbiamo come ruolo di sviluppo all'interno del nostro paese promuovere seminari organizzare stage all'interno delle nostre aziende credo che a suggestioni su questo campo e su questo aspetto ci possa dare una grandissima mano e un grandissimo contributo bene ho parlato di diverse cose in questa presentazione e ci sono alcuni temi che però sono stati ricorrenti il primo è l'Europa come assoggessioni dobbiamo essere più presenti nei momenti in cui si decide l'indirizzo della nostra industria siamo un'industria forte vitale possiamo far sentire in maniera ancora più significativa la nostra voce il secondo punto importante è il tema dell'intervento pubblico qui fatemi partire da un'incontrovertibile realtà che è anche una fortissima consapevolezza quello che è bene per questa industria è bene per il paese questo è un punto dal quale dobbiamo partire è fondamentale noi non chiediamo incentivi fiscali per far prosperare un'industria noi chiediamo incentivi fiscali perché pensiamo che questo sia fondamentale per lo sviluppo del sistema previdenziale e per lo sviluppo e il supporto all'economia reale c'è un ultimo punto sul quale volevo chiudere che è il tema delle nostre responsabilità noi abbiamo delle grandissime responsabilità nei confronti dei clienti che ci stanno facendo crescere nei confronti dei nostri collaboratori verso i quali dobbiamo fare e attivare tutta una serie di leve perché si sentano più coinvolti e più ingaggiati in un'industria particolarmente importante ma anche nei confronti del paese questi è un'azienda è un settore dietro di noi non ci sono speculazioni finanziarie ma ci sono famiglie con i loro progetti ci sono imprese che investono per far crescere il nostro il nostro paese e quindi credo che sia importante che possiamo attivare tante cose per migliorare questa industria per far crescere il benessere delle famiglie che vivono in questo paese e devo dire la cosa bella è che lo possiamo fare insieme uniti determinati e soprattutto fatemi dire che lo vogliamo fare grazie e buon lavoro a tutti invito sul palco il ministro dell'economia Padoan grazie sta arrivando grazie buon lavoro buongiorno a tutti e grazie per l'invito molto gradito di essere di nuovo qua grazie per le luci basse ma se sono troppo basse non riesco a leggere gli appunti il contesto economico globale nel quale ci troviamo oggi è diverso da quello che ci saremmo aspettati qualche anno fa qualche anno fa ci saremmo aspettati che una recessione profonda come quella iniziata nel 2008 sarebbe stata seguita da una ripresa più dinamica che avrebbe recuperato rapidamente la crescita e l'inflazione dei livelli pre-crisi ci saremmo aspettati quella che gli economisti chiamano una ripresa a V invece nonostante le misure particolarmente aggressive di politica monetaria in vari paesi la ripresa resta al di sotto delle aspettative ed è più debole di quelle che l'hanno preceduta la ragione immediata è una debole attività di investimento che riduce le prospettive di crescita nel medio periodo e la domanda nel breve investimenti sono bassi perché le aspettative di domanda sono contenute ma anche perché soffrono da una elevata incertezza i mercati sembrano aver interiorizzato questo contesto e non sembrano aspettarsi che le condizioni torneranno presto normali si parla invece di un nuovo normale cioè non si aspettano che ci siano valori precedenti alla crisi da aspettarsi presto e i mercati reagiscono anche con una maggiore volatilità che a sua volta alimenta l'incertezza quindi un contesto molto difficile per la politica economica in questo quadro l'Unione Europea corre maggiori rischi rispetto agli Stati Uniti a causa del più avanzato invecchiamento demografico del più basso tasso di innovazione e di aspettative di bassa inflazione di tassi di interesse più diffusi e radicati nei mercati occorrono quindi in Europa e in Italia misure strutturali improntate alla ripresa di lungo periodo bisogna agire sugli effetti dell'invecchiamento demografico bisogna sostenere l'innovazione mettere in atto cambiamenti strutturali che aumentino il potenziale di crescita quella crescita che permette di stabilizzare ulteriormente il debito rafforzando la sostenibilità dell'economia negli anni l'Italia ha messo in atto una delle più ambiziose riforme del sistema pensionistico per contrastare gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla crescita e sulla finanza pubblica gli indicatori europei a questo riguardo ci segnalano tra i migliori sistemi esistenti eventuali interventi non possono che partire da questa considerazione il governo è intervenuto per rafforzare la produttività l'innovazione la competitività ricordo misure come il patent box che rafforza la protezione della proprietà intellettuale delle imprese sgravi fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo creazione di nuovo profilo di piccola e media impresa innovativa che beneficia di un regime fiscale favorevole in Europa occorre dare contenuto ed impatto a quella che a me piace chiamare una unione dell'innovazione e cioè una strategia europea che metta in comune le reti dell'innovazione per sfruttare nelle economie di scala le reti di conoscenza e lo sviluppo in Europa occorre anche dare contenuto a quella che è stata chiamata una investment union e cioè l'incrocio di attività europee come l'unione del mercato dei capitali l'unione bancaria e i progetti associati al piano Juncker una investment union che metta la finanza al servizio della crescita in Italia il governo ha messo in campo misure svolte a liberare volte a liberare il potenziale di crescita che si sono accumulate negli anni gli investimenti pubblici in questo contesto sono uno strumento essenziale le misure di riforma della finanza pubblica che sono state recentemente adottate a livello nazionale e il locale permettono di liberare importanti risorse ma serve anche una elevata disponibilità di buoni progetti e una marcata miglioramento di efficienza della macchina pubblica le riforme strutturali liberano opportunità di profitto sta alle imprese saperne approfittare ricordo un elenco già noto il Jobs Act che rende il mercato del lavoro più flessibile agli aggiustamenti e più garantista nelle prospettive di occupazione la riforma della giustizia che riduce il numero dei processi e la durata quella della pubblica amministrazione che crea le condizioni per un maggiore efficienza e produttività del settore pubblico la riforma delle tasse che riduce il carico fiscale a beneficio di famiglie e imprese le riforme istituzionali che attraverso la semplificazione e l'efficientamento rendono sia l'attività di governo che quella parlamentare più semplici e più stabilizzanti del lungo termine quindi impattano la propensione ad investire nel lungo termine il governo è inoltre fortemente impegnato con misure direttamente di sostegno agli investimenti delle imprese private volti per esempio a sostenere la crescita della dimensione aziendale il programma di finanza per la crescita che il Presidente ha citato ha ampliato le forme di finanziamento per le imprese oltre il credito bancario sappiamo tutti qual è la percentuale di finanziamento che da noi viene dal credito bancario e qual è invece quella che viene da forme diverse dal credito quindi bisogna diversificare le fonti di finanziamento ma allo stesso tempo occorre riprendere per la ripresa degli investimenti occorre rafforzare il sistema bancario e come è noto il Governo ha avviato un'ampia misura di riforma su diversi livelli per rafforzare il sistema bancario ricordo le misure in termini di materia di governance quale la riforma delle banche popolari la riforma delle fondazioni bancarie e quella delle banche di credito cooperativo misure per creare un level playing field rispetto alle banche europee come le disposizioni in materia fiscale che riducono i tempi previsti per la deducibilità delle perdite su crediti da 5 a 1 anno le misure per il miglioramento della qualità dell'efficienza dell'attività bancaria quali provvedimenti per facilitare lo smobilizzo di crediti in sofferenza che comprendono anche disposizioni per semplificare e migliorare le procedure concorsuali ed esecutive e quindi accelerare i tempi di recupero dei crediti e aumentarne quindi il rendimento si tratta in altri termini di misure che tendono sia a rafforzare il sistema del credito sia a lasciare alle spalle l'eredità molto dolorosa di tre anni di recessione profonda cui il sistema del credito ha peraltro resistito assai bene anche in un contesto nel quale l'economia ha perso quasi dieci punti di PIL ricordo in particolare su queste misure il pacchetto di misure che ha portato con il decreto legge del 18 febbraio di quest'anno il meccanismo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze noto come GAX sofferenze presente nei bilanci bancari condiviso con la Commissione europea si tratta di un meccanismo che vuole favorire lo sviluppo del mercato italiano delle sofferenze e dei crediti in sofferenza facilitando l'accesso agli investitori con orizzonti di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre le forbice di prezzo fra chi vende e chi acquista dal mercato arrivano primi segnali incoraggianti a conferma che i GAX sia uno strumento utile per smaltire progressivamente lo stock di crediti deteriorati un'altra riforma della governance del settore bancario come citavo è la riforma delle banche popolari la riforma ha affrontato alcune rigidità del sistema di governo societario delle popolari con le finalità di aumentare la capacità di raccolta del capitale valorizzare e rendere più efficace il potere di controllo dei soci sul management facilitare i processi di aggregazione e consolidamento nei casi in cui siano individuate sinergie economie di scala e maggiori efficienze dall'entrata in vigore della riforma è stata resa nota al mercato la prima operazione di fusione nel segmento delle banche popolari con contestuale trasformazione in società per azioni da ciò nascerà il terzo gruppo bancario italiano la riforma ha avuto anche come effetto la trasformazione della più grande banca popolare quotata italiana e di altre banche popolari una forte spinta all'integrazione e rafforzamento del settore bancario verrà anche dalla recente riforma del credito cooperativo contenuta nel decreto del febbraio 2016 la riforma delle bcc consentirà di superare alcuni problemi nell'attuale disciplina del settore derivanti dal modello di attività particolarmente esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento e anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta un'altra riforma che ha avuto come obiettivo il rafforzamento della governance è l'autoriforma delle fondazioni di origine bancaria sostenuta dal ministero dell'economia e finanze in qualità di autorità di vigilanza il governo infine è intervenuto per definire una regolamentazione in linea con le richieste degli investitori internazionali in materia di insolvenza ed esecuzione forzata dal febbraio 2016 è stato approvato il disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di imprese e dell'insolvenza per allineare l'Italia alle normative vigenti nella maggior parte dell'Unione Europea il disegno di legge è volto a sostenere l'attività delle imprese in crisi agevolandone la ristrutturazione e al contempo prevenire l'accumulazione di crediti deteriorati nei bilanci gli effetti delle riforme del settore bancario sono complementari alle misure di finanza per la crescita come dicevo che è un pilastro fondamentale dell'attività di governo e che punta ad aumentare gli strumenti a disposizione delle imprese soprattutto le piccole e medie imprese per un accesso più facile al finanziamento a promuovere investimenti produttivi innovazione incoraggiare la capitalizzazione e la quotazione in borsa a diversificare le fonti di finanziamento con il decreto legge 91 del 14 il cosiddetto decreto competitività era stata introdotta la possibilità per i fondi di credito e le assicurazioni con sede in Italia nonché per le società di cartolarizzazione di erogare direttamente finanziamenti alle imprese tale possibilità non è stata fino ad oggi utilizzata anche per la mancanza di un completo quadro normativo di riferimento all'inizio di marzo è stato pubblicato il regolamento attuativo di Banca d'Italia per il direct lending da parte della società veicolo di cartolarizzazione con il decreto del febbraio 2016 è stato completato il quadro normativo relativo alla concessione di finanziamenti da parte di fondi di investimento alternativi in particolare sono state meglio definite le modalità operative con cui i fondi italiani possono concedere prestiti ed è stata espressamente estesa tale possibilità per i fondi dell'Unione Europea nel rispetto di alcune condizioni infine per assicurare un omogeneo livello di protezione dei clienti la nuova disciplina stabilisce che l'attività di concessione di crediti in Italia sia da parte di FIA italiani che dell'Unione Europea si applichi la normativa sulla trasparenza e la relativa disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico per le banche e gli intermediari finanziari auspico sicuramente che con gli ultimi interventi normativi che saranno completati dalle disposizioni di attuazione di Banca Italia sia stato chiarito il quadro giuridico di riferimento e i fondi di credito italiani e dell'Unione Europea comincino a sostenere con i loro finanziamenti la crescita delle nostre imprese il governo come è stato anticipato è impegnato in una nuova fase di finanza per la crescita di questa iniziativa dato il ruolo centrale che gli investimenti assumono per la crescita del Paese è parte integrante il tavolo di lavoro congiunto sul venture capital promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca Europea per gli investimenti il tavolo vede anche la partecipazione delle autorità di vigilanza competenti per la normativa secondaria e costituisce un foro essenziale per affrontare le questioni poste alle istituzioni del mercato anche in termini di semplificazione in questo nuovo tornata di finanza per la crescita si introdurranno misure volte a indirizzare ulteriormente il risparmio verso gli investimenti produttivi verso le imprese con un alto potenziale di crescita anche per favorire gli investimenti di medio e lungo termine stimolare lo sviluppo di un'industria di gestione specializzata in cui siamo convinti che l'Italia possa giocare un ruolo più forte come ricordava prima il presidente Corcos a questo proposito guardiamo con attenzione a esperienze di altri paesi come il Venture Capital Trust nel Regno Unito e il Plan d'Epargne in Accion in Francia per l'introduzione di piani individuali di risparmio in Italia oltre al sostegno all'innovazione e all'internazionalizzazione finanza per la crescita si occupa di uno sforzo necessario per superare gli svantaggi specifici del settore industriale quale la sottocapitalizzazione e la bassa dimensione di impresa e introdurre modelli di governance più avanzati ma tutto ciò viene anche monitorato dal punto di vista degli impatti nel documento di economia e finanza che verrà pubblicato nei prossimi giorni ed approvato dal Consiglio dei Ministri abbiamo valutato l'impatto delle misure contenute in questo pacchetto le simulazioni effettuate con i modelli del MEF indicano che l'insieme delle misure introdotte potranno generare una crescita aggiuntiva dello 0,2% del PIL rispetto allo scenario base e sino all'1% in più di PIL nel lungo periodo in conclusione vorrei ritornare dopo aver parlato di investimento al risparmio con due brevi osservazioni una prima osservazione mi porta a dire che una maggiore vivacità degli investimenti soprattutto quelli a lungo termine contribuisce a rendere più remunerativo e attraente il risparmio i dati che venivano mostrati prima riguardo a quella che si chiama educazione finanziaria ma che io chiamerei la conoscenza che i risparmiatori italiani hanno di come il mercato funziona indicano che ci sono enormi margini di miglioramento e questi enormi margini di miglioramento vanno di pari passo fornendo informazioni più trasparenti ai risparmiatori e sostenendo gli investimenti quindi ovviamente risparmio e investimento si integrano e sostengono a vicenda la seconda osservazione che occorre e qui ovviamente anche il settore pubblico ha la sua responsabilità occorre che i risparmiatori possono avere a disposizione strumenti in grado di soddisfare le loro esigenze che si rendono via via più sofisticate anche in contesti difficili per la remunerazione del risparmio come quello attuale e in questo contesto concludo ricordando che in questi giorni è stata finalizzata la nuova emissione del BTP Italia il titolo di Stato più apprezzato dal piccolo risparmiatore tra quelli recenti che nelle otto passate emissioni ha fatto registrare un totale di oltre un milione di contratti sottoscritti per un controvalore di 104 miliardi e che anche in questa prima fase di collocamento ha confermato il suo appeal per il mercato retail grazie per la vostra attenzione grazie ancora ministro Padoan per il suo messaggio per essere entrato così in concreto nel mondo degli investimenti nel mondo del risparmio italiano averci dato l'orizzonte non solo quello che il governo ha fatto ma anche quello che è in cantiere ringraziamo il ministro Padoan e veniamo alla parte più internazionale della nostra apertura del salone con Joska Fischer ve lo presentavo in apertura è stato ministro dal 98 al 2005 nel governo rosso-verde di Graef Schroeder il governo che ha impostato le riforme che hanno reso così competitiva l'economia tedesca ma ha continuato a occuparsi dell'attualità e degli scenari internazionali ora con un suo centro una fondazione di ricerca Joska Fischer poi risponderà anche alle vostre domande lo invitiamo subito sul palco gli diamo il benvenuto Welcome to Salone del Risparmio Joska Fischer Benvenuto al Salone del Risparmio Joska Fischer Buongiorno per tutti unfortunately purtroppo questo applauso è stato prematuro perché questo è tutto l'italiano che conosco mi devo scusare perché purtroppo non sono capace di parlare in questa bellissima lingua per cui dovrò esprimermi in inglese grazie mille per avermi invitato a questa importante conferenza per parlarvi della macro politica o comunque della situazione strategica sia di oggi che di domani come prima cosa vorrei iniziare dalla prospettiva mondiale con poche frasi stiamo assistendo o abbiamo assistito nella nostra vita a un cambiamento storico sul palcoscenico globale nei secoli passati erano stati dominati dall'Europa si trattava di un mondo eurocentrico il futuro sarà diverso il futuro non sarà più eurocentrico il centro di gravità si sposterà dall'Atlantico al Pacifico allontanandosi dall'Europa potenze vecchie potenze nuove e devo dire che dall'89 sono apparse delle nuove potenze quando è terminato il sistema bipolare quando è crollato il mondo è scomparsa l'Unione Sovietica e lì ha cominciato a fare capolino a un nuovo mondo e c'è stata proprio l'ascesa della Cina in quegli anni un altro importante attore degli anni futuri sarà l'India ma l'Europa? l'Europa sta perdendo posizioni se gli europei non si rendono conto di quello che sta succedendo non sarà solo una questione di potere anche se c'è uno spostamento di potere ma non sarà solo una questione di economia anche se c'è uno spostamento della ricchezza dall'Occidente all'Oriente ma se gli europei non se ne renderanno conto si giocheranno il futuro è chiaro che l'Europa continuerà a esistere ma sarà un'Europa molto diversa se gli europei non si renderanno conto che nel mondo di domani dobbiamo essere uniti dobbiamo stare insieme e non essere divisi ed è questa la sfida principale che si parla davanti a noi se consideriamo questo spostamento dall'Atlantico al Pacifico è chiaro che cambierà anche il ruolo dagli Stati Uniti gli Stati Uniti continueranno a essere di gran lunga la nazione più potente e anche un'economia importantissima non ho alcun dubbio che gli Stati Uniti si adegueranno a questa nuova realtà però questo dà dei messaggi misti all'Europa perché tutti noi siamo abituati a criticare gli Stati Uniti però in passato eravamo consapevoli che quando avevamo dei guai gravi i nostri cugini d'oltre oceano ci offrivano la spalla non sono così sicuro che questo continuerà a succedere anche in futuro perché secondo me in futuro gli Stati Uniti adegueranno le proprie posizioni e atteggiamenti strategici di certo non rinunceranno completamente all'Europa così come noi non rinunciamo al Medio Oriente però ci sarà un diverso livello di impegno per gli europei questo nuovo mondo significa quindi che dobbiamo badare a noi stessi da soli investendo maggiormente nei nostri interessi e per il futuro delle prossime generazioni ma anche per una maggiore sicurezza e se volete anche previdenza è un po' questa una delle grosse sfide che dobbiamo fronteggiare non possiamo certo pretendere né aspettarci che gli Stati Uniti manterranno lo stesso rollo che hanno avuto in passato anche negli anni a venire se consideriamo il mondo di domani vediamo che l'Europa vive in un ambiente abbastanza sgradevole quello che abbiamo visto con le crisi dei profughi è che l'Europa non è una grande isola continentale non siamo protetti dagli oceoni perché il bacino mediterraneo non è certo un oceano è un mare come ben sapete e abbiamo dei vicini che stanno tutti ai confini dell'Europa abbiamo all'est la Russia poi abbiamo il Medio Oriente al sud nel Mediterraneo orientale e al sud naturalmente l'Africa l'Africa del nord e sotto di questo l'enorme continente africano che nei prossimi anni si trasformeranno tantissimo grazie ai grandi cambiamenti demografici di crescita e naturalmente tutta la pressione ricadrà sull'Europa che cosa possiamo imparare dalla crisi dei profughi e tra l'altro ve lo dico signore e signori queste pressioni non scompariranno per anni e anni gli europei hanno avuto il lusso di cullarsi in delle belle illusioni un'illusione era il fatto di avere questa valuta comune che è terminata però l'illusione 2008 poi avevamo l'illusione di avere questa sicurezza comune illusione che è cessata con il riemergere della rossia imperiale così come l'illusione di avere una politica comune per i richiedenti asilo che è stata sicuramente una delle illusioni più grosse in retrospettiva e devo dire che sono state l'Italia e la Grecia a pagarne lo scotto ma ormai è chiaro che la crisi dei profughi significa che le pressioni provenienti da chi cerca asilo oppure cerca prospettive migliori di vita non scompariranno più non torneremo mai allo status quo di prima per cui la questione per noi europei è capire se riusciremo a trovare una risposta comune purtroppo gli europei però non agiscono sulla base di una strategia comune da quando c'è stata la prima crisi finanziaria in Europa nel 2009 da allora non ci muoviamo più con una strategia comune anziché agire reagiamo alle crisi e questa non è certo la via migliore se avessimo una strategia per contrastare questi problemi come la crisi dei profughi richiederebbe il fatto che gli europei analizzassero i deficit dell'attuale politica dell'asilo che come si diceva si basa su una bugia come ho detto a Dublino e la bugia era il fatto che è un problema dell'Italia piuttosto che della Grecia per cui con l'accordo di Dublino sembrava che andasse tutto bene andava bene se non per il fatto che non funzionava perché ha rinazionalizzato il problema oppure l'ha fatto scomparire sotto il tappeto ma senza dare rispondere però quando questi fiumani di profughi sono andati dal Medio Oriente a Budapest qualcosa è cambiato e quello che abbiamo capito è che il futuro della politica europea d'asilo non va bene perché non possiamo sicuramente risolvere i problemi a livello nazionale dobbiamo agire assieme lo stesso vale per la crisi finanziaria e la crisi della sicurezza per cui noi europei dobbiamo capire che non possiamo continuare a reagire alle crisi dobbiamo trovare delle risposte strategiche comuni e il grosso problema secondo me signore e signori è che mancano degli statisti e delle statiste europee che pensino all'Europa anziché a essere rieletti su base nazionale ci sono degli interessi europei collegati agli interessi nazionali che sono estremamente importanti per il futuro di tutti noi e secondo me è davvero puerile se la maggioranza inizia a credere che il ritorno agli stati nazionali sarà la risposta del ventunesimo secolo che cosa potrebbe essere meglio come ci ritroveremo tutti noi l'Italia la Germania la Francia se questo dovesse succedere secondo voi cosa potrebbe succedere come ci ritroveremo se non esistesse più l'Europa come la conosciamo adesso saremmo messi meglio o saremmo messi molto peggio secondo me la risposta è semplicissima se l'Europa dovesse iniziare a disintegrarsi e tornare nuovamente alle nazionalizzazioni noi non ce l'avremo più un futuro nel ventunesimo secolo e l'ho già detto prima quando parlavo dei vicini spesso è emersa la critica che l'allargamento è stato prematuro e troppo esagerato nel 2004 io non sono d'accordo pensate alla situazione se la Polonia l'Ungheria la Repubblica Ceca la Slovacchia e gli altri paesi non fossero oggi membri dell'Unione Europea con il riemergere della Russia imperiale ad este la situazione sarebbe davvero critica per l'Italia con i nuovi stati membri non è certo facile su questo sono d'accordo però siamo molto meglio così con questi stati dell'Europa orientale che fanno parte dell'AUE piuttosto che averli fuori per cui dobbiamo stare molto attenti ai rapporti di vicinato per mettere a punto delle politiche comuni la Russia è un grosso problema e continuerà ad esserlo perché secondo me non possiamo tornare a breve allo status quo precedente Vladimir Putin ha esternato chiaramente la sua decisione il ripristino della Russia imperiale è un importante interesse loro e non l'occidentalizzazione oppure dei buoni rapporti diplomatici economici o politici con l'occidente signore e signori questo continuerà ad essere un fatto molto importante per la nostra situazione strategica e dobbiamo rispondere con un rafforzamento della politica europea comune della sicurezza e vi ricordate quello che ho detto prima degli Stati Uniti e di come cambieranno con gli interessi strategici sarà un grosso problema secondo me se non riusciremo ad agire assieme con una politica comune per la sicurezza naturalmente la Nato ha un ruolo molto importante però dal punto di vista politico secondo me è molto importante che l'Europa continui con una politica comune per la sicurezza e gli affari esteri soprattutto per quanto riguarda la Russia per quanto riguarda invece il Medio Oriente la situazione è ancora più cupa perché abbiamo lì una desintegrazione di un'intera regione geografica e qui non ho messaggi positivi da darvi perché la situazione è davvero cupa e deprimente con l'intervento in Iraq secondo me gli Stati Uniti hanno commesso un errore madornale perché l'hanno destabilizzato l'Iraq e Daesh cioè l'ISIS è proprio nato nelle prigioni irachene durante l'occupazione statunitense oggi vediamo una miscela pericolosa di terrorismo settarismi ostilità e rivalità tra le varie tribù se volete con la mancanza di istruzione mancanza di occupazione o forti pressioni demografiche e questo è un cocktail estremamente preoccupante per il Medio Oriente e poi a questo si aggiunge il fatto che gli Stati Uniti si stanno ritirando da quella regione e questo provocherà un vuoto di potere che naturalmente è figlio diretto di questi sviluppi e in questo vuoto di potere le potenze regionali l'Arabia Saudita che è appunto il capo dei Sunniti e poi l'Iran con gli sciiti vanno occupare proprio quel vuoto di potere e vogliono diventare loro la potenza dominante del Medio Oriente c'è proprio un contrasto diretto l'unica cosa positiva è che è stato raggiunto un accordo nucleare per cui per il momento magari evitiamo una corsa agli armamenti nucleari nel Medio Oriente però a parte questo vediamo il terrorismo vediamo che le potenze utilizzano i gruppi terroristici come braccio armato e questo naturalmente ha dato luogo all'incubo della guerra civile siriana che insieme alla questione irachena potrebbe addirittura disintegrare l'intera regione mettere a repentaglio i confini attuali e portare addirittura a una lotta di potere che potrebbe durare secoli e secoli proprio alle nostre porte se gli europei non saranno capaci di mettere a punto una strategia comune saremo noi le vittime delle ricadute di queste centenarie lotte del Medio Oriente se pensiamo a come oggi la Turchia non è passato tanto tempo quando invece la Turchia era considerata un esempio luminoso rispetto al resto del Medio Oriente ma non è più così oggi anche la Turchia è uno dei fattori principali nell'equazione Medio Orientale ma anche lì c'è un annoso dramma con la riaccensione della guerra contro i Kurdi che loro chiamano terroristi secondo me non c'è una soluzione militare per la Turchia per quanto riguarda il conflitto con i Kurdi ci può essere solo una soluzione politica ma se la Turchia dovesse imboccare questa strada secondo me si aggiungerebbe un altro elemento di destabilizzazione che non potrà che crescere andando a destabilizzare ulteriormente la Turchia che è una prospettiva da incubo per noi europei perché noi dipendiamo dalla Turchia che ci garbi o meno secondo me l'errore madornale più grosso nella politica estera è stato nel 2007 quando appunto hanno praticamente schiaffeggiato Erdogan che invece si è rivolto a questa strategia neo-ottomana e naturalmente ha cominciato a lasciare i rapporti col Medio Oriente con grandi disastri però la Turchia è un fattore chiave sia per i Balcani che per le chiavi con il Medio Oriente che ci piaccia o meno per cui dobbiamo darci da fare per migliorare i rapporti con la Turchia Se guardiamo al Medio Oriente è ovvio che questa non è una sfida per la Grecia per l'Italia per un solo Stato nazionale europeo ma è una sfida per tutta l'Europa e se gli europei del nord pensano che sia una questione distante da quando sono arrivati i profughi sanno che il Medio Oriente non è così lontano che si può camminare dal Medio Oriente fino al centro dell'Europa non è questa la geografia politica che sta nelle teste delle persone ecco perché noi come europei secondo me faremmo bene a definire una politica comune ma questo significa che dovremmo anche investire in tali politiche la crisi dei profughi è iniziata quando alcuni paesi europei fra cui il mio purtroppo hanno tagliato i sussidi all'agenzia dell'ONU per i rifugiati e a quel punto la gente cominciò a muoversi avendo perduto ogni speranza nel ritorno a casa loro non dobbiamo dimenticare che un investimento nel futuro nel prossimo futuro nel nostro vicinato geografico non è certamente qualcosa da trascurare ecco noi vediamo l'Europa in una situazione veramente grave è tutta una crisi una crisi dietro l'altra e la crisi più importante però è quella che sta accadendo internamente all'Europa lo constatiamo in vari stati europei l'Europa non è più un simbolo di speranza per il futuro specialmente per i giovani non è più un faro le forze nazionalistiche stanno emergendo ovunque ora in Gran Bretagna per esempio ci sarà un referendum sulla Brexit come viene chiamata e la mia posizione è molto chiara io spero che rimarranno all'interno dell'Europa perché perché se dovessero lasciare l'Europa ciò porterebbe a delle conseguenze economiche molto gravi la sterlina crollerebbe ma non soltanto la sterlina anche l'euro secondo me risentirebbe di questa pressione perché molti dei nostri partner internazionali e anche dei nostri nemici naturalmente direbbero toh l'Europa non è poi quel gran progetto per il futuro ma è un progetto del passato è un sogno che non si avvererà mai e questo è pericoloso inutile spiegarlo a persone che appartengono al mondo della finanza anche la percezione è un fattore importantissimo quindi io spero veramente che la Brexit non avrà luogo ma se invece dovesse avvenire dobbiamo anche prendere in considerazione questa opzione bene se la Brexit avrà luogo ebbene credo che sarà necessaria una reazione molto rapida se la Gran Bretagna uscirà dall'Europa ci saranno allora due Europe l'Europa che si basa sul mercato comune e l'Europa è la cosiddetta Eurolandia che dovrà quest'ultima ristrutturare l'Europa e superare i problemi nazionali per formare un'unione valutaria più integrata penso che questo sarà un must altrimenti ci troveremo in guai veramente seri ma io spero lo ripeto che la Brexit non avverrà se così fosse bisognerà trasformarla in una opportunità e non in una sconfitta e questo potrà essere fatto grazie a un'azione comune dell'Euro stesso sappiamo che non è facile la differenza fra la Germania e il resto dell'Unione Europea stanno aumentando giorno dopo giorno grazie a Dio e non voglio dire questo per compiacervi come italiani per fortuna abbiamo infatti il presidente della BCE Mario Draghi che poveretto anche lui però si trova in una situazione molto complessa benché abbia spiegato suo ruolo come primo ministro della zona Euro in realtà non è un primo ministro è un tecnocrate che sta alla testa di un'istituzione estremamente tecnocratica che è la Banca Centrale Europea quindi non è eletto come primo ministro questo è un deficit importante una situazione di emergenza Draghi ha agito molte volte in seguito ad emergenze io lo capisco e sono d'accordo ma questo non è sano per il futuro il ruolo di Draghi riflette una carenza di unione e di legittimità all'interno dell'Unione Valutaria Europea e questa deve essere superata credo che l'Europa si troverebbe su un terreno molto più sicuro in quel caso di quanto non si trovi oggi inoltre non dobbiamo dimenticare che i fondamentali della crisi finanziaria non sono mutati finora in realtà certo abbiamo degli strumenti migliori una nuova crisi potrebbe essere affrontata in maniera più efficiente e più efficace ma i fondamentali sono ancora quelli perciò penso il futuro dell'Europa verrà determinato dal futuro dell'Unione Valutaria e tale futuro significa più integrazione non minore integrazione istituzioni europee più forti proprio come stiamo imparando dal ruolo che sta svolgendo Mario Draghi con la sua istituzione perciò ripeto dovremmo trasformare le crisi in opportunità e questa secondo me è una vera opzione perciò quando guardiamo all'Europa e se mi venisse chiesto come sarà l'Europa fra qualche anno fra dieci anni esisterà ancora beh io sono ottimista come realista dirò di sì risponderei di sì non so non posso dire abbastanza del stato d'animo italiano però ricordatevi che l'Italia è l'economia la terza economia più grande la terza popolazione più vasta dell'Europa fin quando i britannici comunque fanno parte della nostra Europa quello che accade in Italia è estremamente importante per tutta l'Europa personalmente come ministro degli esteri l'ho potuto veramente sperimentare nella mio ufficio e si è trattato di un'esperienza veramente negativa quando l'Italia è stata assente dalla scena in un certo senso per vari anni a causa di problemi interni l'Italia è un membro fondatore un membro importantissimo dell'Unione Europea e svolge un ruolo molto importante nello sviluppo dell'Europa e delle sue istituzioni proprio come vedete nel caso di Mario Draghi l'Italia ci offre anche degli attori fondamentali nelle istituzioni europee perciò per favore comprendete quanto è importante l'Italia per il futuro dell'Europa e viceversa naturalmente per tutti noi spero che l'Italia rimarrà impegnata e si farà promotrice dell'integrazione europea e si muoverà anche incoraggiando un'Europa sempre più forte perché di questo c'è urgente bisogno ma non ci fermiamo qua guardiamo alla Francia per esempio vediamo quali saranno gli sviluppi delle elezioni francesi ma quello che mi preoccupa veramente è quello che accadrà in Francia l'anno venturo con le elezioni presidenziali naturalmente Marine Le Pen non può vincere nel sistema delle elezioni però avevano detto lo stesso di Donald Trump mi spiace doverlo dire non so se Trump traslucherà la Casa Bianca personalmente spero di no non mi sentirei molto a mio agio nel sapere che il biondone è così vicino al bottone rosso tra l'altro io non so perché tutti questi strani personaggi statunitesi hanno degli incendiati tedeschi ci deve essere qualche ragione comunque io spero che in Francia le cose si svolgeranno e si svilupperanno in modo positivo ma se non fosse così in fondo pongo queste questioni retoricamente per stimolarvi a preoccuparvi della stabilità economica l'Italia la Francia la Germania sono gli elementi chiave dell'Unione valutaria e anche dell'Unione europea tutte e tre per quanto riguarda naturalmente gli stati più grandi sono membri fondatori e domani vedremo anche le decisioni che verranno prese dagli olandesi su un problema minore grazie a un referendum su un accordo di associazione fra l'Unione europea e l'Ucraina dobbiamo superare questa instabilità economica e i grandi membri fondatori hanno secondo me un ruolo veramente importante da svolgere se l'Europa sbattesse contro un muro noi i grandi membri fondatori ne pagheremo il prezzo più alto non dimenticatelo perciò fa anche parte dei nostri interessi diretti il preservare l'Unione europea il nazionalismo non è una risposta ai difetti dell'Unione europea le sue mancanze perciò noi dobbiamo anche affrontare la crisi più grande dell'Europa che è una crisi di fiducia che si basa sulla rinazionalizzazione in molti dei nostri paesi e questo deve essere affrontato ma ancora una volta la crisi significa movimento in Europa noi non ci muoviamo secondo una strategia ma ci muoviamo diciamo mossi guidati dalla crisi e siccome le crisi sono molte l'Europa dovrà muoversi per forza se mi chiedeste che cosa sarà qual è la mia visione fra dieci anni l'Europa distrutta o un'Europa forte la mia risposta è molto semplice vedremo un'Europa più forte e vi posso dire perché non posso parlare come come naturalmente pubblico italiano ma come qualcuno che ha avuto qualche esperienza in campagne elettorali con i tedeschi e come politico attivo se qualcosa si facesse veramente veramente grave cioè se si sollevasse una domanda faremo questo pagheremo per questo e allora l'Europa sopravvivrà oppure no ebbene io ho ancora fiducia nel fatto che i due terzi dei tedeschi voterebbero per fare qualunque cosa per far sopravvivere l'Europa perché non è soltanto una questione di razionalità è anche una questione di esperienza anche di emozioni di sentimenti se voi paragonate la storia nazionale tedesca la prima metà del ventesimo secolo e la seconda metà del ventesimo secolo è come notte e giorno come l'inferno e il paradiso il cambiamento quindi è stato portato proprio dall'Europa dall'integrazione e questo è profondamente radicato nel popolo tedesco spero che questo non sia vero soltanto per i tedeschi ma anche per altri grandi stati membri specialmente i membri fondatori perciò io sono ottimista la crisi significa certo problemi sfide guai ma significa anche movimento l'Europa che si muove verso un'Europa più forte e questo è l'elemento chiave il nostro destino dipende dall'Europa signori e signori che noi parliamo italiano tedesco francese qualunque altra lingua polacco qualunque lingua il nostro destino verrà deciso se noi possiamo formare tenere unita e rendere più forte l'Europa come partner valido nel mondo grazie e allora grazie Oscar Fischer per questo discorso così lucido ispirato sul futuro dell'Europa abbiamo qualche minuto per una veloce conversazione con lui basata anche sulle vostre domande quindi c'è un numero a cui potete girare gli sms con le domande che io potrò girare a Oscar Fischer facciamolo vedere che è il 335 70 85 439 335 70 85 439 eccolo lì ma iniziamo Oscar Fischer il grande applauso che lei ha ricevuto è proprio perché noi qui siamo d'accordo con quello che lei ha detto con la sua visione abbiamo bisogno di più Europa di più integrazione ma certamente siamo anche preoccupati le persone sono scettiche in Europa c'è una carenza di risposta da parte dell'Europa nella gestione della crisi mi sembra che lei non abbia nominato mai Angela Merkel nel suo discorso ma lei la conosce bene allora mi potrebbe dire se è importante o meno che cosa farà in futuro ieri ha avuto un incontro con Christine Lagarde con la Banca Mondiale a Berlino eccetera e le è stato chiesto di cambiare un po' la sua mentalità per dare più forza all'economia europea in termini di crescita ma lascerà mai la sua posizione di austerità diciamo così o rimarrà sempre fedele alla politica condotta finora io l'ho criticata pubblicamente durante l'eurocrisi perché non sono mai stato favorevole a una politica di austerità quando Schröder e io abbiamo deciso di seguire la strada delle riforme per noi le cose erano piuttosto chiare non si può riformare e risparmiare allo stesso tempo non saremo sopravvissuti in effetti non siamo sopravvissuti ma questo è stato dovuto forse a un problema psicologico del cancelliere più che altro ha perso un po' la sua stabilità e sono stati fatti degli errori ma invece Angela Merkel si trova in una posizione diversa è sottoposta a forti pressioni da parte del proprio partito ma sopravvivrà non ne ho nessun nessun dubbio nel 2017 verrà rieletta ne sono certa ma come posso spiegare mi dispiace veramente non parlare italiano in questa occasione particolarmente il riemergere della Germania occidentale dopo la guerra fu dovuto a un insieme di principi economici e da allora l'economia tedesca e i suoi leaders hanno sempre pensato che tutto quello che era stato opportuno per far emergere la Germania dagli orrori della seconda guerra mondiale sarebbe stato perfetto e opportuno anche per l'Europa e i conservatori proprio hanno una forte presa su questo tipo di gruppo la loro ideologia la loro mentalità è estremamente forte Angela Merkel non ha modo di dire niente su questo deve fare molta attenzione essere estremamente tattica ma de facto la politica dell'austerità non esiste più come all'inizio della crisi finanziaria lo sapete molto bene le regole sono più rilassate sono più soft e soprattutto questione di una posizione ufficiale diciamo ma credo il passo successivo dovrebbe essere questo l'Italia la Francia e la Germania dovrebbero trovare un compromesso che cosa significa l'Europa c'è una mentalità francese una italiana una spagnola una tedesca che ci piaccia o no è un fatto e quindi l'Europa è sempre un compromesso senza compromesso niente quindi Renzi e Merkel potrebbero stare nella stessa Europa quanto mi spiace non parlare italiano accidenti perché io ascolto molto attentamente le sue parole non voglio sollevare false speranze la cosa migliore che può fare un governo italiano se Renzi naturalmente continua ad agire bene allora in quel caso penso che ci potrebbe essere possibilità di compromesso perché quello che occorre nell'Eurozona è un compromesso lei ha detto che le regole sono più soft sono più rilassate io non direi che per esempio il ministro Padoan potrebbe essere d'accordo con lei perché non fa altro che correre avanti e indietro con Bruxelles per chiedere maggiore flessibilità all'interno delle regole se pensate alle regole bancarie all'unione bancaria ci sono state naturalmente certe regole che sono andate insieme ad altre quelle sui depositi per esempio e il ministro chiede una maniera diversa di valutare le risorse finanziarie e i fondi strutturali a seconda delle linee guida sulle riforme quindi apparentemente la posizione tedesca rimane sempre la stessa no io non voglio difendere la posizione tedesca voglio semplicemente spiegare la complessità politica di tali problematiche in Germania per esempio Schäuble attenzione io non condivido i suoi punti di vista ma per Schäuble il grande problema è quello delle garanzie ossia alla fine della giornata sarà lui l'estremo garante come vice cancelliere europeo della Germania sì certo naturalmente ma questo è soltanto metà del problema allora ci sono arrivate delle domande la prima quanto siamo lontani da un ministro delle finanze comune secondo me dopo il 2017 con le elezioni tedesche e francese questa opzione potrebbe essere realistica un'altra domanda molti politici europei sembrano non essere in grado o non volere difendere l'idea di Europa perché è difficile argomentare un progetto come questo la maggioranza dei giovani politici di tutti i paesi ritengono di non poter essere eletti basandosi sull'Europa e secondo me invece questo è un grandissimo errore però è quello che accade dappertutto in tutti i partiti la nostra sfida fondamentale è quella dell'Europa se non si riesce a vendere l'Europa a un pubblico nazionale allora non si sta facendo il mestiere giusto sarebbe lo stesso se si fosse in una banca e si dicesse noi capiamo tutto della finanza nazionale ma i mercati internazionali finanziari noi non li capiamo non hanno niente a che fare con noi non ha senso lo stesso vale per la politica se si è un politico che non è in grado di spiegare l'Europa di difenderla allora si è persi si è perso il futuro un'altra domanda dal pubblico quali sono le tre cose principali che potrebbero aiutare l'Europa in termini di riforme attuabili in breve tempo innanzitutto direi una riforma dell'unione valutaria è urgente e necessaria in secondo luogo il sistema comune europeo delle migrazioni deve essere riformato e in terzo luogo la strategia europea che dà alla gente una visione dell'Europa definendo i passi successivi verso un'Europa più integrata è essenziale l'Europa non è una faccenda che si fa così un giorno dopo l'altro più o meno a caso c'è bisogno di una visione qualunque navigatore sulla sua barca in alto mare ha bisogno di sapere dove è diretto ha bisogno di sapere quanto tempo gli occorrerà di quanto carburante ha bisogno e poi praticamente dovrà procedere passo a passo ma lo stesso deve valere per l'Europa abbiamo perso la visione e questo significa anche il rischio di perdere la gente i nazionalisti hanno una visione certo l'Europa non va bene torniamo al passato quando tutto andava molto meglio dal mio punto di vista è una follia distruggerebbe tutto quello che abbiamo torniamo dal punto di vista economico oggi il bundest trading è a 0,08 termini di rendimento qual è allora la percezione da parte appunto di questa situazione secondo voi l'Europa potrà supportare il Mario Draghi non può andare più in là di così beh abbiamo un problema obiettivo e uno soggettivo quello obiettivo è che il gap all'interno della valuta unica sta crescendo sta aumentando e tra l'altro la Germania ne sta approfittando fra parentesi perché un euro che costa poco insieme a un petrolio che costa poco e certamente è un grandissimo incentivo all'economia ma nessuno ne parla dal mio punto di vista penso che dovremmo superare questo stallo con un grande compromesso se questo gap questo divario oggettivo sta aumentando il rischio è enorme perché ci sarebbe una ripercussione politica ossia la frustrazione al sud dell'Europa riguardo alle politiche e la frustrazione in Germania e in altri paesi nordici rispetto alla situazione dei tassi di interesse bassissimi e questo politicamente è qualcosa che deve preoccuparci e per superare questo abbiamo bisogno di un grande compromesso che richiede coraggio da entrambi i lati e che sarà fattibile dopo il ciclo delle elezioni un altro punto importante con molte domande che ci sono state rivolte riguarda la Cina all'inizio ci sono state preoccupazioni sulla capacità della Cina di gestire le proprie istituzioni il proprio mercato eccetera secondo lei questo non fa più parte dei titoli di testa non è più importante oppure invece dovremmo stare attenti beh dovremmo pregare tutti i giorni perché la Cina rimanga stabile perché se la Cina avesse un problema ebbene credo che tutti noi avremo un problema in tutto il mondo perciò secondo me questo è uno dei cambiamenti più importanti dell'ultimo decennio adesso ormai la Cina è un attore economico globale non lo era all'inizio della crisi economica ricordo molte discussioni sulla visione della Cina forse era troppo presto per lei per svolgere un ruolo importante no perché ormai la Cina lo sta svolgendo questo ruolo e ha dei problemi molto gravi dal punto di vista diciamo della sua potenza per esempio il settore pubblico non è redditizio estremamente indebitato d'altra parte la maggioranza della forza lavoro è ancora lì perciò è un problema molto importante dal punto di vista politico per il partito comunista ma senza riforme non vedo come potranno superare questi problemi la corruzione è il loro problema maggiore e ha la capacità di destabilizzare il sistema senza l'accettazione di un'opinione pubblica naturalmente indipendente senza l'accettazione di una magistratura veramente indipendente non credo che si potrà superare questo problema della corruzione endemica cinese e la ricchezza dei pochi è addirittura ridicola quindi la Cina ha dei problemi certamente però preghiamo ripeto preghiamo che possano tornare a delle riforme e trovare un modo per superare questi problemi un altro collega nella sala chiede se vedremo mai l'eurobond in Europa alla fine quando saremo riusciti a superare la crisi ci sarà anche un eurobond sarà diventato uno spazio finanziario comune della valuta comune ma si tratta di una discussione complicata soprattutto con gli attigliani sapete che cosa significa il debito pubblico italiano per questo tipo di situazione quindi mi sarà piacere essere in pensione non più a Bruxelles ora la Grecia sembra risvegliarsi dal suo periodo di crisi a giugno a luglio ci sarà il periodo di rimborso del proprio debito e come sta andando la conversazione col FMI io non ho mai condiviso la posizione tedesca sulla Grecia o perlomeno la posizione ufficiale tedesca perché il posticipare la risoluzione del problema non fa che aumentare il costo e non dobbiamo dimenticarci chiaramente delle riforme necessarie in Grecia e non a beneficio dell'Europa soltanto ma a beneficio della Grecia stessa perché la situazione non può continuare così come si è svolta nel passato la situazione quindi dovremmo essere generosi ma in modo intelligente saggio e in Germania nelle ultime settimane ho sempre chiesto Doece Schäuble e non la Merkel la Merkel che ha preso la decisione di mantenere dentro l'Europa la Grecia ma se invece avessimo dato ragione a Schäuble come saremmo messi data la crisi dei profughi che avrebbe causato una destabilizzazione della Grecia oppure la Russia abbiamo degli interessi di ordine geopolitico non soltanto di ordine economico e sono interconnessi e questo non va dimenticato quindi dal mio punto di vista ritengo che anche tra i conservatori tedeschi viene sempre più compresa quella che è l'importanza geopolitica della Grecia e viene compreso il fatto che occorre trovare una risposta delle soluzioni perché la Grecia si apra le riforme ma sia stabile sia un partner affidabile all'interno dell'Unione Europea e della Nato ultime due domande Jean-Claude Juncker è il leader giusto per il progetto europeo in questo momento storico cosa ne pensa sì perché è un animale politico non è un leader a esperienza non penso che abbia una prospettiva di lungo periodo ma di nuovo è un politico di esperienza quindi è l'uomo giusto nel posto giusto e una cosa che dice sappiamo quello che dobbiamo fare per l'Europa ma se lo faremo non sapremo se saremo rieletti e questo è valso forse anche per Schröder e beh la rielezione è sicuramente importante ma ci sono cose molto più importanti nella vita perché se si viene sconfitti per le ragioni giuste per le riforme giuste beh tutto ha un limite temporale non soltanto in una democrazia sicuramente in una democrazia ma anche nella vita umana tutto ha un limite temporale per cui essere sconfitti nelle elezioni non è poi la fine del mondo sì beh lo dica i politici non penso che abbiano la sua idea comunque l'ultima domanda riguarda il futuro dell'Europa per quanto riguarda il progetto degli Stati Uniti di Europa e la domanda che ci viene dal pubblico e lei ha fatto questa dichiarazione già nel passato lei lo vede il futuro degli Stati Uniti di Europa lo vede come una realtà beh noi amiamo i nostri paesi i nostri stati perché non ha soltanto che vedere con l'aspetto della politica della finanza ma anche a vedere con gli aspetti culturali dell'Europa e la diversità dei paesi europei e degli europei è un dato di fatto e quindi gli stati europei sono le istituzioni fondanti sei stati europei sono le istituzioni fondanti dell'Unione europea non è stato il contrario badate bene e quindi continueranno in questa via perché portano con sé anche il senso di legittimità perché quando gli italiani si definiscono europei lo fanno da italiani così come i tedeschi quando pensano all'Europa lo fanno da tedeschi e non da europei perché siamo sia europei che italiani o tedeschi o appartenenti ad altre nazionalità quindi non ritengo che gli stati scompariranno questo no ma abbiamo bisogno di un'Europa più unita e abbiamo gli stati e allora come possiamo chiamarla gli stati uniti si chiamano gli stati uniti ma non sono stati uniti perché gli stati uniti sono un'unione unione effettiva dalla loro guerra civile e quindi il fatto di un'Europa più unita gli stati rimarranno svolgeranno un ruolo costituzionale fondamentale e quindi in che modo altro la potremo chiamare quest'ognuno non so potremmo chiamarla il paradiso d'Europa io le chiamerei Stati Uniti di Europa Oscar Fischer è stato fantastico dare il benvenuto qui al salone di risparmio oggi grazie mille per essere intervenuti grazie grazie a voi grazie